allora se uno mi dicesse si va beh mercadini ma se tu dovessi condensare tutto quello che pensi tutto quello che sai tutto quello che senti sul narrare sul fare monologhi di cosa parleresti quale sarebbe l'argomento di questa super sintesi che tutti i tuoi discorsi raccoglie raduna e riassume non avrei dubbi gli unicorni io parlerei degli unicorni in questa super sintesi in questo discorso finale in cui tutti sono compressi sintetizzati gli unicorni cosa dire sugli unicorni cosa dire sugli unicorni quante cose da dire però da dove cominciare ecco l'unicorno è ritenuto comunemente l'animale più mistico e meraviglioso più straordinario e stupefacente c'è una cosa da dire subito subito sull'unicorno che l'unicorno è fra tutti gli animali fantastici fisicamente il più banale più banale c'è cosa 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 è un cavallo bianco con un corno in mezzo alla fronte quindi è il massimo della banalità cioè voglio dire ci sono animali reali che sono ben più stupefacenti ben meno banali dell'unicorno la giraffa è un animale molto meno banale dell'unicorno l'exocetide il pesce volante c'è un pesce con le ali altro che un cavallo col corno un pesce con le ali e che balzi che fa e che voli che compie è un pesce fuor d'acqua specializzato un animale meraviglioso in cui io molto mi identifico ma non so per esempio non so il narvalo o narvalo ma pare che si dica narvalo fra l'altro che è questo cetaceo assomiglia al beluga che ha però una bestia di 4 5 metri che ha una zanna unica quindi asimmetrica che sporge fuori per la lunghezza anche sul superiore abbondantemente a due metri e mezzo dritta come una spada ma attorcigliata avvitata e come dire elicoidale animale assoluto c'è un cetaceo quindi un animale acqua un mammifero che vive in acqua quindi vive dove non può respirare non respira dove vive con questa zanna assurda asimmetrica il narvalo ok è stato cacciato il corno di narvalo per molto tempo nel medioevo è stato spacciato per corno di unicorno tanto che nella wunderkammer nella camera delle meraviglie di elisabetta prima d'inghilterra è presente un presunto corno di unicorno che in realtà è una zanna di narvalo ma in realtà è più strano il narvalo cioè in un mondo sensato in un mondo più incline alla logica non esisterebbero i narvali esisterebbero gli unicorni e ci sarebbe della gente che caccia gli unicorni ne preleva il corno per poi spacciarli per zanne di narvalo facendosi beffa così dei gonzi ecco ci sono degli animali assurdi nel mondo una cosa che ho scoperto di di recente c'è un gasteropode quindi un lumacone di mare che si chiama crisomallon squamiferum e produce delle escrescenze di metallo ma non di metallo nel senso di alcuni coleotteri che sembrano di metallo no 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 di metallo vero cioè escrescenze che sono fatte per esempio di disolfuro di ferro cioè pirite il disolfuro di ferro la pirite è questa roba qui è questa roba qui sono questi lumaconi che hanno delle escrescenze delle squame di questa roba qui ok crisomallon infatti vuol dire tumore dorato escrescenza dorata cos'è di fronte a tutto questo un cavallo bianco col corno allora qual è il senso dell'unicorno cosa lo rende così affascinante così mistico e magico non come non il suo corpo ma quello che fa l'effetto che produce per esempio secondo la leggenda il corno di unicorno è una panacea per tutti i mali sconfigge qualsiasi veleno purifica qualsiasi sostanza ecco ecco questo è un potere significativo cioè il drago bellissimo animale fantastico al fiato infuocato che brucia le cose è molto raro che un animale fantastico sani risani medichi ma c'è un'altra cosa secondo me ancora più affascinante dell'unicorno anzi che secondo me sintetizza la vera essenza dell'unicorno cioè l'unicorno è un animale elegante delicato etereo puro ma è indomito indomabile indocile impossibile da catturare quindi è anche scontroso ma è sensibile alla purezza alla dolcezza cioè per esempio si fa ammansire dalle vergini questa ambiguità qui di qualcosa che è puro che delicato che elegante ma allo stesso tempo è straordinariamente forte e mostruosamente energico è una caratteristica tipica dell'unicorno che lo rende affascinante ma c'è un'altra cosa da dire sull'unicorno l'unicorno è straordinario sotto un altro punto di vista cioè la sua evoluzione cioè gli altri animali fantastici non sono cambiati come l'unicorno il drago è il drago il griffone è il griffone l'unicorno ha seguito ha subito nel corso dei secoli una trasformazione stupefacente meravigliosa quella sì allora proviamo a fare una sintetica storia dell'unicorno dunque l'unicorno proviene probabilmente dall'oriente dalla cina o dall'india unicorno come idea come animale fantastico e c'è un animale che probabilmente è il proto unicorno tanto viene chiamato tanto che viene chiamato anche unicorno cinese il chi lin un animale di cui parla anche confucio di cosa si tratta è una sorta di cervo con la coda da bue e la testa di cavallo che è assolutamente pacifico cioè non uccide nessun animale addirittura non calpesta l'erba viva e che compare quando ci sono sovrani quando nascono sovrani particolarmente benevoli e dall'animo puro ecco ecco vedete che è ovviamente un corno in mezzo alla fronte quindi il chi lin l'unicorno cinese ha delle caratteristiche a delle caratteristiche che probabilmente ne fanno il genitore non l'antenato del nostro unicorno quando è che l'unicorno però è arrivato nella nostra cultura in occidente dunque il primissimo documento lo dobbiamo a un medico greco che lavorava però in oriente perché era il medico del re di persia tale tesia di cnido nome vero nome vero tesia di cnido siamo fra il quinto e il quarto secolo avanti cristo e lui in un libro intitolato sull'india quindi lui pensa di parlare dell'india scrive questa cosa qui ve la leggo ve la leggo scrive in india ci sono degli asini selvatici grandi come cavalli e anche di più hanno il corpo bianco la testa rossa e gli occhi blu sulla fronte hanno un corno lungo circa un piede e mezzo la polvere di questo corno macinato si prepara in pozione ed è un antidoto contro i velini mortali ecco ecco la nascita della leggenda di quel tratto mitico tipico dell'unicorno la miracolosità del corno va avanti la base del corno circa due palmi sopra la fronte è candida l'altra estremità è appuntita e di colore cremisi la parte in mezzo è nera coloro che bevono utilizzando questi corni come coppe non vanno soggetti si dice alle convulsioni o agli attacchi di epilessia inoltre sono anche immuni dai veleni se prima o dopo averli ingeriti cioè dopo aver ingerito il veleno o prima di aver ingerito o prima di ingerire il veleno bevono vino acqua o qualsiasi altra cosa da queste coppe cioè dai corni questa è la prima traccia documentale dell'unicorno nella cultura occidentale passa qualche secolo passa qualche secolo e anche plinio il vecchio scrive qualcosa sull'unicorno un passo più breve che vi leggo ecco ecco allora nella sua naturalis storia dice plinio in india conoscono anche buoi dagli zoccoli compatti con un solo corno unicornes qui unicorni corno ok è un è un aggettivo non è il nome dell'animale la bestia più feroce è il monoceros nel resto del corpo simile al cavallo nella testa al cervo nelle zampe all'elefante nella coda al cinghiale dal mugito profondo con un unico corno nero che sporge dalla metà della fronte per due cubiti dicono che questa bestia non può essere catturata viva ecco l'altro elemento l'indocilità dicono che questa bestia non può essere catturata viva ci siamo ci siamo è nata nell'antichità la figura dell'unicorno in occidente e poi andiamo avanti andiamo avanti arriva il medioevo medioevo epoca intossicata dal senso del meraviglioso in cui hanno grandissima distribuzione fra gli studiosi grandissima distribuzione i bestiari dove campeggiano e sono protagonisti fra gli altri animali fantastici gli unicorni e qui com'è l'unicorno l'unicorno medievale l'unicorno medievale nelle rappresentazioni sia nelle miniature che nei dipinti che negli razzi non è in realtà un cavallo bianco è un animale chimerico cioè un animale fatto di diverse parti come quello di plinio il vecchio perché se ci pensate gli animali fantastici sono spesso commissione di animali diversi il grifone è un incrocio impossibile fra l'aquila e leone la chimera è chimerica il la sirena è parte donna e pesce il minotauro è parte uomo e parte toro ok l'unicorno medievale è in parte cavallo ma in parte capra perché agli zoccoli bi partiti quindi è un artiodattilo come le capre come le gazzelle e ha il mento barbato altro attributo caprino e se ci pensate anche il corno dell'unicorno per come immaginato avvitato a spirale assomiglia più ai corni delle capre ok che a quelli di cioè dei toro quindi l'unicorno medievale oscilla fra il cavallo la capra capro il cavallo il cavallo la capra non è né una capra né un cavallo in teoria perché appunto è un unicorno così come la giraffa non è né un cammello né un leopardo anche se si chiama scientificamente giraffa camelopardalis e camelopardo in italiano è un sinonimo di giraffa quindi non è vero che l'unicorno è un cavallo è un animale che non è né un cavallo ma né una capra ma assomiglia un e due e qui è interessante vedere le varie rappresentazioni medievali a volte assomiglia più un cavallo a volte assomiglia più una capra l'unicorno in particolare c'è una magnifica serie di arazzi del 1400 arazzi fiamminghi che si chiamano la dama e l'unicorno e li vengono rappresentate fra le varie cose i cinque sensi ok vengono rappresentati i cinque sensi e se prendete il tatto se prendete il tatto della dama e l'unicorno il tatto vi devo dire con molto tatto che lì l'unicorno è una capra proprio una capra proprio al cento per cento tranne l'unico corno è una capra fatta e finita è interessante anche vedere quali sono gli animali che sono stati nel medioevo o nel tardo medioevo o insomma nella prima età moderna scambiati per unicorni per esempio in un trattato del 1486 che si chiama peregrinazio in terram sanctam questi pellegrini tedeschi che vedono la terra santa ma anche la penisola arabica elencano così con disinvoltura fra i vari animali avvistati gli unicorni lì probabilmente dicono gli studiosi odierni l'unicorno che hanno visto questi qui è l'orice araba l'orice araba è un antilope quindi è artiodattila agli cioccoli di partiti è bianca ed ha due bellissime corna lunghe svettanti e dritte e ericoidali abbastanza vicine abbastanza vicine per cui se uno la vede di profilo può vederne solo una può pensare che ci sia solo un corno ma non solo non solo ma a volte nei combattimenti fra maschi un corno si spezza quindi è pensare è molto probabile che l'unicorno avvistato da questi pellegrini fosse l'orice araba c'è un altro animale però che è stato nel corso del tempo scambiato per un'icona forse il mio preferito ed è un animale che si chiama scientificamente taurotragus oryx cioè si chiama correttamente antilope alcina che già da l'idea di un animale chimerico a metà fra due animali antilope alcina cioè è un antilope che assomiglia a un'alce non assomiglia a un'alce ma è un'antilope il nome scientifico taurotragus oryx è ancora più bello cioè l'orice torocapra l'orice torocapra quindi tre animali in uno e questo è un animale che ha due caratteristiche impressionanti la prima è che per una rara mutazione genetica per una rara malformazione genetica può nascere un esemplare maschio con un corno solo sempre avvitato sempre liquoidale e l'altra cosa è che questo animale è una preda ovviamente dei leoni ma in alcuni casi per difendersi riesce addirittura a uccidere il leone cioè riesce a uccidere il re degli animali il predatore per eccellenza capite che questo è molto unicornoso ok? questo bellissimo animale elegante che uccide il re degli animali è indocile, è indomito, è potente bene poi cosa succede? nella vulgata prende gradualmente nel mondo moderno piede questa semplificazione per cui l'unicorno è semplicemente un cavallo bianco non è un cavallo capra ma è un cavallo bianco con un corno in mezzo alla fronte ma di recente c'è stata un'altra trasformazione abbastanza eclatante abbastanza eclatante io l'ha dato direi all'inizio degli anni 10 all'inizio degli anni 10 improvvisamente è diventato di moda l'unicorno ma una particolare unicorno allora nel 2010 facciamo un po' di storia nel 2010 nel 2010 è stato prodotto un film d'animazione si chiama cattivissimo me dove c'è una bambina agnes affezionatissima al suo unicorno nel 2011 è uscito un disco di lady gaga quindi pop star immensamente nota che si chiama born this way nata così più o meno vuol dire che porta in copertina un unicorno ma di che unicorni si tratta? si tratta di unicorni coloratissimi di unicorni che hanno la criniera e la coda arcobaleno con colori arcobaleno tenui magari pastello questa è una cosa che non ha nulla a che fare con la rappresentazione medievale dell'unicorno da dove nasce probabilmente nasce da un modo di dire c'è un modo di dire in inglese che suona più o meno così isn't all unicorns and rainbows non è tutto unicorni e arcobaleni un po' come dire non è tutto rosa e fiori quindi probabilmente da questo modo di dire si è causato una fusione fra l'unicorno e l'arcobaleno per cui l'unicorno intanto ha assunto delle tinte arcobaleno e poi è diventato il simbolo di tutto quello che è ingenuamente fiabesco utopisticamente idilliaco ok? perfettamente innocuo ed ha assunto delle caratteristiche nuove, curiose, interessanti che non hanno assolutamente nulla a che fare con l'identità dell'unicorno la descrizione dell'unicorno medievale ma che sono perfettamente in linea con questa visione delle cose allora tutto quello che l'unicorno fa, produce se cerne per esempio addirittura col corpo non solo è innocuo ma è addirittura delizioso le sue lacrime sono rosa e si possono bere addirittura è stato prodotto un vino che si chiama lacrime di unicorno che è un vino rosato, un vino rosa c'è questa cosa comicissima dello sterco di unicorno che sarebbe colore arcobaleno addirittura ho visto in certi filmati cartoni animati, commestibile cioè tutto in linea con questa nuova forma dell'unicorno come come dire animale assolutamente fiabesco etereo positivo in tutto e per tutto in ogni sua forma in ogni sua secrezione addirittura che però non ha nulla a che fare appunto con questa con la visione medievale originale dell'unicorno che invece era basato basato il suo fascino secondo me su questo contrasto ecco questa è l'evoluzione dell'unicorno dall'antichità ai giorni nostri allora perché ho fatto questo discorso assurdo su questo argomento assurdo per sintetizzare per dire tutto quello che penso che sento che so sulla narrazione sul dire sui monologhi ma in che senso direte voi allora vedete io ho parlato di unicorni cioè di cose assolutamente strampalate però come ne ho parlato ho tentato di parlarne in modo razionale in modo ordinato in modo conseguenziale perché così a me piace fare perché io penso che per parlare delle cose in modo ordinato occorra uno sforzo ma poi questo sforzo vada a beneficio di chi ascolta perché io penso che l'ordine mentale sia una cosa importante e tento di trasmetterlo nel modo in cui parlo allora per esempio io ho fatto tempo fa un video sul fatto che la terra è sferica e non è piatta l'argomento è banale ma il senso e il centro di quel video non è tanto quello che dico cioè il fatto che la terra non è piatta che è banale ma è il modo in cui argomento quello che dico allora c'è un caro amico che fra l'altro ha un bellissimo canale youtube Gabriele di random physics il canale youtube si chiama random physics fa divulgazione scientifica sulla fisica che siccome di investire fa l'insegnante mi ha detto ma sai che quel video lì più di una volta l'ho fatto vedere ai miei studenti perché è educativa la razionalità è educativo l'approccio che hai esatto cioè il senso vero di quel video lì non è il contenuto è la modalità allora per esempio se io nel video in un mio discorso in un mio monologo metto delle battute perché io tento di esprimere con quelle battute la mia visione del mondo il mio divertimento la mia gioia di vivere la mia cordialità verso gli esseri umani e le cose la mia curiosità verso il mondo quindi chi mi dice per esempio perché un video di un quarto d'ora un video di 20 minuti per una cosa che si poteva dire in un minuto no non si poteva dire in un minuto perché per dire quella cosa che ho detto in 20 minuti in un minuto dovevo togliere magari quelle due tre battute ma quelle battute a me piacciono va contro il mio pensiero toglierle perché fanno ridere avrei dovuto enunciare quello che pensavo senza spiegarlo senza produrre il ragionamento no che arrivava dall'inizio a quella conclusione e questo è contrario al mio modo di fare al mio modo di pensare cioè un discorso non ha valore solo e non tanto per quello che dice per quello che è il suo contenuto ma ha valore anche e soprattutto per quello che produce per quello che fa per l'effetto che genera come l'unicorno che di per sé fisicamente è banale ma è quello che fa quello che produce che è magico e poi c'è questa cosa qui in cui io credo tantissimo tutte le volte che racconti una storia tutte le volte che fai un discorso ti devi ricordare che ogni storia ha una storia ogni mito ha una trasformazione ogni discorso ha un'evoluzione esattamente come accade per l'unicorno ecco questo è il mio discorso questa è la sintesi una specie di sintesi di tutto quello che penso della narrazione e questi sono i discorsi un po' unicornosi unicornosi buon unicorno a tutti anzi buon unicorno a tutti secondo me i discorsi devono essere così devono essere come gli unicorni cioè avere valore anche e soprattutto per quello che producono per quello che fanno per quello che trasmettono non solo per il senso logico non solo per il riferimento di una informazione se no sarebbe il telegiornale la comunicazione umana va ben oltre il telegiornale va ben oltre la cronaca c'è qualcosa di più c'è qualcosa di più c'è l'unicorno va bene questi dicevo sono i miei video che faccio a scadenze irregolari irregolarissime liberamente sono liberi anche nel senso che sono free gratuiti gratis se volete entrare un po' più nel mio mondo fitto di unicorni può essere anche inquietante come cosa però se volete fare questa esperienza esiste un programma che si chiama Patreon magari vi metto il link in descrizione si possono accedere a dei contenuti ulteriori extra scegliendo anche un grado di vicinanza voi vedete voi scegliete il grado di vicinanza giusto nel caso cioè finanziatemi se volete ma senza farvi male ciao ma soprattutto viva gli unicorni grazie a tutti